Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, oggi sono andato da un nostro amico e ho voluto condividere con voi il suo allevamento. Eccolo qua, Bert, un grandissimo allevatore, ovviamente con il suo permesso. Andiamo a fare un giro. Vi faccio vedere qui il sistema in Belgio come funziona. Qui invece del sistema italiano con le cappie, si usa spesso dei piccoli box, come questi qua che vedete. In questo caso ci sono dei canarini, ma nella stagione riproduttiva mettiamo le coppie in questi piccoli box, ok? Per mia esperienza, usando questi box per l'accoppiamento, si ha molta più probabilità di successo, ok? Perché ovviamente i solcetti avranno molto più spazio e sono al loro agio. Qui vediamo i solcetti riprodotti da Bert, bellissimi cartellini, diverse mutazioni. Come vedete lì a destra c'era un satinè, penso. E vedete che sono al loro agio in una piccola voliera. Qui vediamo dei ciuffolotti, quelli piccoli però, non sono quelli mayor. Questi sono i ciuffolotti di piccola taglia. Adesso vediamo i genitori. Eccoli qua. Sono ancestrali. È una bellissima coppia, questa è la femmina. Come vedete, è il maschio, è lì nell'angolino. Anche in questo caso Bert ha usato una piccola voliera. È stato un gran successo per lui perché, come vi ho detto, i solcetti sono sempre al loro agio nelle piccole voliere. Eccoli qua i piccoletti. Tra qualche giorno penso che prenderanno il volo. Lasciamoli tranquilli. Qui vediamo una piccola voliera. In Belgio si usano molte le voliere, soprattutto quando il soggetto inizia a mangiare da solo. Si mette sempre queste voliere qui, così può fare una bella muta. Può volare tranquillamente. E penso che questo sistema è migliore delle gabbe. Ma ci sono sempre i pro e i contro che vi spiegherò in futuro, ok? E niente ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E se avete qualche video della vostra installazione, fa sempre piacere vederli, così possiamo condividerli nel nostro canale, ok? Il mio numero Whatsapp è qui sotto. Ciao pelli!